Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di The Sims 4, ma non siamo nel gameplay perché oggi ragazzi siamo in un video diverso, un video di build, di arredamento, ma soprattutto anche di trucchetti, oggi vi voglio far vedere un trucchetto molto carino, se riesco, che possiamo fare in The Sims 4. E allora passiamo appunto alla grafica di gioco, io ho già messo ragazzi una stanza 5x5 con annessa porta, ho utilizzato la porta questa qui di, come si dice, aspetta che non mi ricordo mai, oddio, di, no questa è di Season, scusate, con invece le finestre di Monte Komorebi. Come potete vedere ho usato il BB Move Object per mettere le finestre che con Alt si possono spostare dove volete, aspettate che le aggiusto ancora. Mi piacciono molto queste finestre, diciamo che si tira la finestrella per aprire e siamo ragazzi in una camera da letto, per meglio dire, siamo in una zona, ve lo dico, per ragazzi, perché vi voglio far vedere una cosa. Allora, andiamo subito a mettere un bel letto a castello, voglio mettere un letto a castello, tipo, no però quello col doppio letto. Ah, wow, dove sono? Non ci sono già formati? Oddio, c'è solo quello con la cassettiere, eccetera, eccetera. E allora mettiamolo separato, voglio utilizzare questa roba del, eccoci, questo, adoro ragazzi, adorissimo. Però ci sarebbe anche Celeste. Allora, di regola questi tipo di video, raga, si fanno ovviamente con, come si dice, con, ma questo lo possiamo anche cambiare. Uh, potremmo metterlo così, forse è molto più carino. No, mi piaceva così, vedete che poi io mi perdo in queste cose, che non dovrei, non dovrei, dovrei sbrigarmi, perché, appunto, questo dovrebbe essere uno speed build e invece io ho deciso di farlo normale, questo video, adoro. Però possiamo, oh, voilà, capisci? No, però io lo voglio mettere così, invece, questo letto. Va bene, allora, perché vi dico questo? Perché, raga, dobbiamo andare a fare subito una cosa molto, molto importante, che ho visto fare già in un video su internet, ma ve la volevo riproporre. Ovvero, allora, io andrei innanzitutto su tutto, su tutto, tutto. In questo caso io vado a mettere il game pack, dove, a redi da sogno, perché dobbiamo fare una cosa, ovvero, utilizzare queste robine qui. Per creare una scrivania. Allora, innanzitutto, dov'è il mio cubo? Allora, questo mi piace tantissimo, infatti lo metteremo qui, sicuramente. Oddio, forse, non lo so. Per ora sì, lo piazzo, vediamo poi. Scusate, non mi devo perdere in chiacchiere. Allora, 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 dove sta? Dove sta il cubo? Eccolo. Allora, innanzitutto mettiamo un cubo così. Ora vi faccio vedere una cosina bellissima. Poi andiamo a mettere questa roba qui, così, e uno con i cassetti, che mi piace un sacco. Oddio, potremmo metterlo anche con i cassetti bianchi, così, giusto per alternare. E poi un altro lo mettiamo da questo lato. Io credo sia questo qui la situazione giusta. E questo potremmo metterlo anche così. Ma lo sapete che forse, forse potremmo rimpicciolire di uno. Infatti, lo rimpiccioliamo di uno. Lo mettiamo così. Questo, secondo me, potrebbe andare molto più basso. Aspettate, fatemi prima capire una cosa. Andate a mettere una scrivania, raga, una scrivania qualsiasi. In realtà io ci metto quelle da uno, tipo così. Ora vi faccio vedere una cosa, perché quella la andremo poi a rimpicciolire. Quindi sì, lo dobbiamo, lo possiamo abbassare. Oh, questo si muove tutto insieme, giustamente. Giustamente, giustamente. E poi andiamo a prendere, raga, superfici. Possiamo andare a prendere, ora vi faccio vedere, una bella, una bella mensola molto semplice. Questa qui, tipo bianca, ok. L'andiamo ad ingrandire, raga, e l'andiamo a piazzare esattamente all'altezza della scrivania. Lo vedete? Quanto è carino? Ok. Poi, aspettate, perché non è finita qui. Allora, innanzitutto, fatemi lavorare bene questa cosina qui, che deve sembrare appoggiato sopra. Voilà. E questo possiamo... Ah no, si è staccato tutto. E questo possiamo metterlo così. Mi piace un sacco, ragazzi. Un sacco, un sacco. Poi, cosa succede? Questa la leviamo un attimo. Ci andiamo a mettere un bel computer sopra. Questo qui. Questo lo riportiamo, raga, qui. Ma questa roba qui, l'andiamo a rimpicciolire tantissimo. Ora vi faccio vedere. La possiamo mettere un po' come vi pare. Tipo, io lo volevo mettere un po' storto. Ci mettiamo una bella sedia. Io la voglio mettere un po' colorata, quindi ce la metto celeste. Guardate. Ole. Va adoro. Adorissimo. Allora, io... Scusate. Io vorrei prendere... Ok. Lo possiamo mettere anche così, se vi va. Però io lo metterei qui. Opla. Ci piace. E lì ci potete mettere, raga, volendo, se trovate quel cubo pazzesco. Aspettate, forse è un tavolino. Il cubo, quello... Eccolo qui. Tipo poggiapiedi, per intenderci. Un po' piccolino. Un po' così. Per coprire. Molto, molto, molto carino, raga. E poi, ovviamente, raga, potete metterci una bella... Per esempio... Come si dice? Come possiamo... Ah, ecco cosa possiamo fare. Per esempio, raga, potete trovare online l'OMSP, che sarebbe questa mensola. Che voi basta che la mettete, diciamo, così. E voi poi potete posizionare tutto ciò che vi pare sopra, all'interno. Vedete? Io, tipo, ci metto questa roba qui. Ora, questa poi andrebbe tolta. Però, se voi la mettete a quest'altezza, poi potete metterci quello che vi pare. Ora, questo lo vorrei mettere colorato, tipo. La potremmo mettere nera, che non mi dispiace. Una bella piantina, for example. Ora vi faccio vedere. No, volevo mettere, tipo, dei libri. Quindi, lo cliccate e poi... Questa qui la mettete alla stessa altezza. Però un po' spostata. Perché non me lo fa mettere? Ah, perché c'è questa. Oviders. Vabbè, questa la potete spostare, raga. Questa la mettete qui. Le mettete poi un po' così. Ci mettiamo anche una piantina. Io volevo mettere il porta oggetti. Dov'è? Eccolo qua. Mettiamo qui e poi lo mettiamo qui. E ci volevo mettere anche una piantina, se ci riuscivo. Tipo, non questa, ma tipo questa. Che mi piace un sacco. Ovviamente dovreste spostare. È un lavoro un po' minuzioso, raga. Però lo potete fare tranquillamente. Tipo, lo mettete qui. Questa la eliminate. Ok. Questa poi l'andate a riposizionare dove vi serve. Ovvero qui. Giusto? Esatto. E questo poi l'andate a riposizionare un po' sotto la mensola. Senza fare errori. Adoro, adoro. E guardate che bella scrivania che vi esce. Ora, io ci metto al volo delle robe per completare questa stanza. Tipo, volevo metterci un bel tappeto carino. Questo è molto carino, ma non mi va di metterlo. Where is? Ecco, tipo questo. Allora, abbiamo messo... Eh, tipo questo qui non mi dispiacerebbe. Oddio, forse non ci sta molto bene con i copriletti. Aspettate, vediamo un po' di colori. Eh, questo ci sta molto meglio. Questa la potremmo fare anche gialla, così, per fare un po' di, come dire, contrasto. Come luci, come luci, ci andiamo a mettere una bella... Eccola qui. Questa qui qua. Questa qui qua qua, praticamente. Qui ci potremmo mettere delle belle... Come si dice? Delle belle tende. Ma io non ce le metto a sto giro. Una bella radio, decisamente. Possiamo alzare. Ci mettiamo una bella radio qui. E ci potremmo mettere anche, for example, dei giochi. Why not? Delle scarpe sotto le potremmo mettere. Molto bene. Potremmo metterci... Sì, delle scatole, raga, tipo... Oppure... Ecco, tipo questo. Potremmo metterci tipo questo qui. Magari la giriamo un po' così. Adoro. Poi ci andiamo a mettere un bel armadio. E io, raga, amo questo armadio. Ve lo dico molto apertamente. Credo che sia stato il più bello che hanno fatto. Per ora. Lo mettiamo qui. Unito. Però, aspettate. Che questo armadio ha bisogno... Oh, potremmo metterlo giallo. Per riprendere il tema, diciamo, della sedia. Molto carino. Aspettate perché ci voglio mettere anche un bello specchio. Un bello specchio da muro. Tipo questo qui ci sarebbe molto bene. Oppure abbiamo questo, ma è troppo alto, secondo me. Vediamo, vediamo. Ci sarebbe anche questo da appoggiare. Ma no. Io ci metto questo qui. Che bianco non mi dispiace affatto. E continuerei a metterci anche delle scarpe lì, raga. Visto che ce le abbiamo messe già. Vedete, ce ne sono tantissime. Questa persona ha un sacco di scarpe. Qui ci andrei a mettere, ovviamente, un bel calendario. Se lo troviamo. Eccolo qua. Direi anche sul verde. Mi piace. Un bel calendario. Bello. Mi piace. Mi piace molto. Le lampade mi piacciono. Vedete com'è? Esce molto bene questa rubina. Guardate. Io ci metto questo qui. Scusate. Lo metto così. Non mi piace tantissimo questo letto. Secondo me andrebbe più... No, vabbè, dai. Lo possiamo lasciare. Uh, ma c'era anche un tipo un giallo. No, così. Lo possiamo lasciare. Va bene. Forse, allora, non serve questo. Mettere questo. Esatto. Ma ci mettiamo dei giochi. Per esempio, ci mettiamo la casa delle bambole. Che io ho imparato a mettere. Ma rimpicciolita, raga. Perché se no, veramente, è troppo grande. E appunto ci metterei anche un bello orsacchiotto. Un bel... Voilà. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Se io riesco, il muro lo vorrei fare così. Ok. Benissimo. Benissimo. Raga. Molto, molto bello. Così possono anche giocare. Guardate che carino. Questo lo possiamo tirare anche più indietro. Effettivamente. Bellino, bellino. E mettiamoci anche un quadretto, raga. Questo episodio durerà, come al solito, una ventina di minuti. Credo. E ci mettiamo un bel quadretto. Tipo, potremmo metterci queste robe. Adoro. No. Ci voglio mettere qualcosa di più easy. Però molto carino. No, questo non è per niente easy. Ah, ci possiamo mettere questo qui. Il cupcake. Anche rosa non mi dispiace con la rifinitura gialla. Mi piace. Mi piace. Assolutamente. Evidentemente noi potremmo avere anche questo. Tipo questi piccolini così. Anche sul blu mi piace. Aspetta. Questo lo mettiamo un attimo qua. Fatemelo spostare. Questo qui lo rimpiccioliamo. Bello. Mi piace così. E andiamo a mettere, raga, ovviamente la carta da parati. Scusate. Allora, innanzitutto mettiamo un bel parquet. Come al solito. Ci sarebbe un parquet del genere, forse. O forse un po' più chiaro. O forse ancora più chiaro. Che non è male. Mettiamo il parquet più chiaro in favore, raga, di una carta da parati magari colorata. Per esempio, potremmo utilizzare questa roba. Una roba tipo del genere per colorare un po' la stanza. Che non è male. Anche sul marrone, devo dire, non mi dispiace. Guardate come esce molto, molto carina. E questo di contrasto? No. Direi di utilizzare invece una cosa. Aspettate, fatemi capire. Bianco? No, non mi piaceva il bianco. Volevo usare almeno un grigio. Almeno un grigio. Oh, voilà, ragazzi. Guardate che bella. Guardate che bella questa stanza. Cioè, a me piace tantissimo. Io spero, ragazzi, che questa cosa la conoscevate già. Se non la conoscevate, sono ancora più contento. E se avevate bisogno, appunto, di un tutorial per utilizzarla, spero vivamente che adesso comprendiate come si può utilizzare questo trucchetto. Ovviamente, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, potete mettere un mi piace. Ovviamente, se non mi conoscete, potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram. Ma soprattutto, ragazzi, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questa stanza. Io, nel frattempo, ragazzi, vi mando un basso. Vi aspetto al prossimo episodio. E nulla. Ci vediamo presto. Ciao!